Cari ascoltatori vi saluto cordialmente nel prezioso nome di Gesù Cristo. Ogni giorno riceviamo posta da coloro che sono toccati in modo speciale dalle nostre trasmissioni. I nostri sermoni radiofonici mirano ad arrivare al cuore del messaggio divino e a proclamare Gesù Cristo come il crocifisso e il risorto. Non è ancora cambiato nulla dei problemi di questo mondo né della loro soluzione. Ci sono cose su cui non possiamo avere padronanza, che vanno oltre la nostra sfera e di cui solo il Signore può occuparsi. Questo si estende a tutte le sfere della nostra vita, secondo lo spirito, l'anima e il corpo. Il mondo sarebbe bello se non ci fosse il diavolo. Allora tutte le tentazioni e i timori e di conseguenza tutte le angosce, il peccato e la malattia rimarrebbero lontani da noi. C'era uno stato prima della caduta a cui l'uomo è effettivamente destinato, dove viveva in comunione con Dio. Ma dalla trasgressione nel giardino dell'Eden il nemico ha acquisito potere sull'umanità. Siamo tutti nati nel peccato e privi della gloria di Dio. La legge ci ha condannato, ma ci ha già offerto la prospettiva della grazia in Cristo Gesù nostro Signore. In Matteo capitolo 5 versetti 6 e 7 il Signore Gesù ha fatto uno dei suoi sermoni più lunghi, conosciuto come il Sermone sul Monte. Lì lui dà consigli per la vita quotidiana e per un cammino divino. Nell'ottavo capitolo leggiamo subito l'attività di guarigione di Gesù Cristo. Un lebroso si avvicinò a lui, gli si prostrò dinanzi dicendo, Signore se vuoi tu puoi mondarmi. Gesù stesa la mano lo toccò e disse, lo voglio, sii mondato. Lui fu immediatamente mondato dalla sua lebra. Gesù non solo ha insegnato, ma ha anche istruito le persone su come vivere e camminare. Lui si è occupato dei loro problemi, sì, li ha aiutati. Lui ha salvato e guarito. Quell'uomo disse, Signore se tu vuoi. E il Signore rispose, lo voglio, sii mondato. Ed è stato fatto. Non si tratta di sapere se il Signore vuole. È la volontà di Dio che siamo salvati, liberati e guariti. Gesù Cristo era Dio stesso rivelato come uomo e come figlio di Dio non ha fatto nulla di contrario alla volontà del Padre. Oggi se una persona con un cuore sincero viene a Gesù in piena fiducia e usa le stesse parole e dice, Signore se tu vuoi puoi guarirmi. Il Signore risponderà allo stesso modo, lo voglio, sii guarito. Per così tanti anni le verità bibliche non sono state predicate, al punto che i cristiani sinceri non osano reclamare le promesse di Dio per se stessi e hanno persino paura di credere o di pregare contro la volontà di Dio. Dobbiamo capire che la volontà di Dio non è plasmata o stabilita dalla visione di fede di una comunità religiosa. La volontà di Dio è descritta nella parola di Dio e stabilita una volta per tutte. Dopo che il Signore Gesù ebbe guarito il lebroso, il centurione venne da lui e lo pregò dicendo, Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli rispose, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. È meraviglioso sapere che abbiamo uno a cui possiamo venire con tutte le nostre necessità e anche con le necessità degli altri. il centurione era preoccupato per il suo servo. Lui venne da Gesù. Il Signore fu subito pronto a venire a guarire. Egli disse, verrò e lo guarirò. Possiamo credere che Gesù Cristo sia lo stesso oggi? La Bibbia è vera? Le sue promesse sono vere? Ha Egli ancora lo stesso potere oggi? Così possiamo sapere che Lui è pronto ad aiutarci oggi. Ciò di cui abbiamo bisogno è una proclamazione biblica che risvegli la fede e la fiducia negli ascoltatori in modo che possano venire a Gesù e sperimentare la sua potenza. Il centurione disse, Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa. Noi tutti non siamo degni, ma non è questo il punto. Dipendiamo da Lui. Andiamo da Lui e chiediamogli di venire da noi e di prendersi cura di noi. Lui disse, Signore, io non sono degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. Il Signore pronuncia la parola con autorità divina e ciò avviene. La stessa potenza che c'era nella parola di Dio quando Egli disse sia la luce è in ogni parola di Dio quando è pronunciata nella fede e ricevuta nella fede. La parola di Dio non perderà mai il suo potere. Il Signore Gesù si stupì della fede di quest'uomo. Egli disse, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Il centurione non pregò per anni, ma venne da Gesù. Non leggiamo che ha digiunato, è venuto da Gesù. Non ci viene detto che ha fatto lunghe presentazioni sul problema. semplicemente venne da Gesù e gli parlò della sua preoccupazione. Il suo servo soffriva terribilmente e giaceva paralizzato in casa. Lui non poteva più stare a guardare. Sapeva che Gesù Cristo è il Signore. così gli parlò. Dovrebbe essere un conforto per tutti noi che la risposta di Gesù è verrò e lo guarirò. Questo è rimasto vero fino ad oggi. Dove l'aiuto umano non è possibile, il Signore interviene e manifesta la sua potenza e gloria per salvare, liberare e guarire coloro che vengono a lui. Dopo questo evento il Signore Gesù entrò nella casa di Pietro. Lì la suocera era a letto con la febbre. Sta scritto, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Lei si alzò e si mise a servirlo. Ecco la lezione che vogliamo prendere oggi. Possiamo servire il Signore Gesù solo quando Lui ci tende la mano e ci solleva. Uno scrittore di Inni canta Mano che mi ha cercato, sangue che mi ha acquistato, grazia che mi ha riportato a casa. Molti predicano una salvezza che rimane nell'aria come una teoria. Gesù Cristo è un fatto e tutto ciò che Lui ha acquistato per noi deve diventare un fatto nella nostra vita. Se affermiamo che Lui è entrato in casa nostra, allora deve essere successo qualcosa. Il Signore Gesù non è mai entrato in una città, in un villaggio o in una casa senza che succedesse qualcosa. Le persone hanno sempre sperimentato un cambiamento. La suocera di Pietro non avrebbe potuto servire il Maestro se fosse rimasta a letto malata. Ma Lui allungò la mano, la prese, la sollevò e la febbre la lasciò. Lei si alzò e lo servì. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, non posso non credere che Gesù Cristo sia ancora lo stesso oggi. Quello che ne fate dipende da voi. Puoi ringraziare Dio per la tua malattia, se vuoi. Io ringrazio Dio per la mia guarigione, così come lo ringrazio per la mia liberazione e il perdono dei miei peccati. Quando una persona ringrazia Dio per la malattia, può anche ringraziarlo per i peccati e la schiavitù in cui si trova, perché le scritture insegnano che Lui ha portato i nostri peccati e le nostre malattie sulla croce. Non si dirà mai abbastanza chiaramente che attraverso una predicazione inadeguata, la gente è portata all'incredulità invece che alla fede. Che la vera fede possa venire attraverso la proclamazione del pieno Vangelo di Gesù Cristo, che si estende a tutta la persona, secondo lo spirito, l'anima e il corpo, in modo da chiedere a Gesù Cristo di entrare nella nostra casa e prendere dimora nei nostri cuori. Quando Egli verrà, il potere di Satana sarà spezzato. Quando Lui viene, tutto diventa nuovo. Quando Lui entrerà nella nostra casa, la salvezza verrà a noi. Ebrei capitolo 13, versetto 8, dice che Gesù Cristo è lo stesso oggi. Ha la stessa potenza. Egli tende la sua mano di salvezza a ciascuno di noi oggi. Lui vuole afferrarci, sollevarci e guarirci, in modo che possiamo servirlo. Molti cristiani sono bloccati nella loro vita di fede. Non possono alzarsi. Mancano dell'ispirazione dello Spirito Santo e del potere della fede. Ora, in questo momento, il Signore è vicino a tutti. Ora, Egli vuole aiutarci affinché possiamo servirlo liberamente, redenti e guariti. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il mio cuore per la tua preziosa parola che ancora oggi ha la stessa potenza. Ti ringrazio per il tuo prezioso sangue, o Signore, che tu hai sparso sulla croce del Golgotha. Ti ringrazio per la salvezza delle nostre anime, per la liberazione e la guarigione dei nostri corpi. Sii vicino ora a tutti coloro che hanno ascoltato questo sermone. Entra nella loro stanza. Stendi la tua mano verso di loro. Sollevali e benedicili dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.